La massoneria che non era nata però così, perché è fondata da un sacerdote anglicano, non cattolico, però insomma era stata fondata a scopi umanitari e poi è diventata sempre di più. Guardi una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria, la sete di danaro è la radice di tutti i mali, è diventato sempre di più un potere, un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera. E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo, il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massoneria. L'ambiente dei giudici romani come è corrotto. Ho avuto tanti esempi evidentissimi di corruzione dei giudici, evidentissimi, massoneria. Tanti esempi di persone che non riescono a trovare posto di lavoro perché i massoni si avvano con loro, che li bloccano. Ho gente che aspira posti di vertici e che merita posti di vertici, sono bloccati da una massoneria, bloccati, comandano loro.